ciao qui li prendi e oggi giochicchio con i gormiti non abbiamo mai fatto mistero su questo canale di adorare questa linea di giocattoli la scoprì prima io di marco semplicemente perché a tempo lavoravo in un ufficio da solo e facendo la spesa una volta comprai alcuni ovetti della zaini penso dei gormiti con insieme a una piccola isola dei gormiti e fui sorpreso dai design particolarmente coraggiosi di tanti di quei mostri è passato poco che inizia a collezionare le bustine e ora ne siamo in vasi di gormiti ma prima di parlare direttamente di questi questi che vedete qua in particolare per inciso sono quelli della terza serie ok siamo ancora prima dell'uscita nel cartone animato prima di parlare direttamente di questi giocattolini vorrei fare due brevi parentesi spero di riuscire a fare brevi la prima è una riflessione su come funziona il mondo del collezionismo ovvero com'è che alcune serie di giocattoli in particolare con il passare del tempo diventano oggetti per collezionisti il collezionismo quello di giocattoli in particolare è fortemente legato a una emozione fondamentalmente che è quella che chiamiamo nostalgia la voglia cioè di riscoprire di ritrovare una volta che siamo cresciuti con il passare degli anni quello che da bambini ci aveva reso felici quello che da bambini ci attirava o magari anche solo quello che avremmo voluto e non abbiamo mai potuto possedere gli anni passano noi cresciamo e auspicabilmente troviamo un lavoro questo è il primo gormito che compra no in realtà non era questa era la versione mitos che cambia colore il primo gormito che trovai in una bustina lui è fortius comunque noi cresciamo ci troviamo un lavoro e quindi abbiamo qualche soldino da spendere ed è allora che la nostalgia ci punge e torniamo a cercare quelle cose che per noi da bambini avevano un significato particolare quindi succede che la mia generazione che andava matta per l'uomo da 6 milioni di dollari ad esempio o i diacloni i diacloni o i micronauti cresce diventa adulta arriva fai dai 30 anni in poi che ha uno stipendio va a cercarli e li compra e più persone cercano uno stesso oggetto più quell'oggetto viene ritenuto da collezione più il suo valore anche economico sale ovviamente proprio per questo motivo la nostalgia e questo circolo del collezionismo è appunto un ciclo le cose arrivano e passano e quindi se io da bambino andavo matto per l'uomo da 6 milioni di dollari in molti di voi oggi non sanno chi fosse dopo di lui sono arrivati che so io è arrivato a sard sono arrivati i master cg e i joy transformers le tante loro ninja i cavalieri in dono zodiaco e non ci si è mai fermati arrivava sempre roba nuova e nuovi bambini si appassionavano a determinati titoli passa il tempo quelli che erano bambini diventano adulti e sono diventati pezzi da collezionisti i masters i transformers e così via la stessa cosa succederà ad esempio per questa serie di giocattoli i gormiti furono un successo fenomenale sono una serie di giocattoli che è durata più a lungo di quanto durarono i masters si parlava di un giro di centinaia di milioni di euro ogni anno sono stati i re incontrastati dei negozi di giocattoli per diversi anni non ce n'era per mattel non ce n'era per asbro tutti i bimbi volevano questi mossi cattoli qua proprio per questo motivo quando quei bimbi saranno adulti questi mossi cattoli richiameranno la loro nostalgia e diventeranno pezzi da collezionismo lo stiamo già vedendo perché i personaggi della prima serie hanno dei prezzi decisamente elevati ora qua viene il bello perché i gormiti sono nati in realtà nel 2005 sono una serie abbastanza recente in particolare una serie di giocattoli che è nata nel pieno dell'era di internet ed è proprio per questo che trovo singolare il fatto che non ci sia praticamente nulla di documentazione su di loro proprio sul web non c'è un sito di amatori che elenca tutti i personaggi che faccia vedere tutte le card e i disegni di ognuno che elenchi le varianti ed è anche palese secondo me da come venne gestita la linea dei giocattoli che giochi preziosi stessa non si aspettasse un successo di questa portata la prima serie venne prodotta in quantità limitate se pensiamo a quanto sia poi sia poi esplosa la maniera dei gormiti infatti quando la prima serie colpì il mercato svanì subito vennero immediatamente esauriti e giochi preziosi si affrettò a soddisfare la richiesta con delle varianti e con una seconda una terza serie e così via è buon per loro la serie è durata diversi anni almeno dieci anni nella sua concezione originale è tantissimo se pensiamo che i masters non ne sono durati cinque ok ora cosa vogliamo dire non essendoci documentazione si perdono alcune volte alcuni giocattolini nelle maglie del sistema un esempio per fare il parallelismo con i masters può essere il famoso wonder bread e man una variante di man con i capelli castani e armi differenti della quale non la sappiamo non sappiamo perché venne prodotta o come venisse distribuita di sicuro non si trovava nei negozi di giocattoli sembra che fosse un premio che si ottenesse con una raccolta di punti ma chissà di quale catena chissà con quale modalità quello wonder bread e man oggi è uno dei pezzi se non il pezzo di più alto valore economico e più raro da trovare dell'intera serie dei masters chissà se esiste qualcosa del genere per i gormiti pochissimo sappiamo sappiamo che non si fermarono a produrre queste minifigure ovviamente le richieste era tale per cui arrivamo ad avere cartelle zaini piste elettriche macchinine piste da d'acqua costumi di carnevale action figure playset tutto fecero per i gormiti qualunque genere di prodotto perfino i cellulari chissà tra questi prodotti se c'era qualcosa di insolito qualcosa di raro qualcosa di poco documentato o poco distribuito che un giorno avrà un valore beh tra questi gormiti che vedete qua davanti c'è un intruso ed è il nostro grandalbero il grandalbero che vediamo qua venne distribuito soltanto attraverso il giornalino dei gormiti una pubblicazione dell'edicola quindi non c'era nei negozi di giocattoli non c'era per nessun altro canale soltanto nelle edicole italiane che occasionalmente regalava una variante di un gormito poteva essere uno di ripinto di un gormito della serie originale o talvolta come in questo caso uno stampo interamente nuovo perché il grandalbero che vedete qui assomiglia a quello regolare anche se al pancino un poco più allungato alla stessa scala dei gormiti regolari vedete è decisamente compatibile ha perfino lo stesso numerino sotto i piedi quindi ci si può giocare con il regolare gioco di carte ma ha qualcosa in più tanto per cominciare a delle articolazioni possiamo muovere le sue gambine in alto e in braccio e in basso e le braccia altrettanto le articolazioni sono una cosa che avrebbe reso fantastici anche tutti gli altri personaggi però va bene così l'altra caratteristica è che se noi giriamo notiamo che abbiamo qua sulla schiena uno speaker questi buchini servono a far uscire un suono purtroppo non è possibile cambiare le batterie ma questo significa che questo gormito ha una funzione una funzione che si attiva premendo questo suo piccolo ombelico nero un bottoncino ed essendo una serie di giocattoli tutta italiana la funzione è che parla in italiano vediamo se riusciamo ad ascoltare la sua voce ancora una volta dice arriva grand'albero signora della foresta e non potendo cambiare le batterie siamo fortunati a poterla sentire adesso scusate le papere questi sono dei video fatti praticamente in diretta sentirete anche i rumori di elicotteri o quello che è ma è curioso io mi chiedo se un giorno questo gormito avverrà qualche cosa se un giorno occuperà la posizione di quelle varianti strane rare e poco conosciute che abbiamo visto per tante altre serie di giocattoli del passato sentiamolo ancora prova avvicinarlo allo speaker giusto per farvi sentire meglio vediamo un po non è in scena ma dovrebbe potersi ascoltare questo è questo è l'arte giocattino che volevo farvi vedere lo adoro a me piacciono tutti i gran miti e risaputo questo in particolare è più curioso degli altri ciao 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 Grazie.